buongiorno benvenuti benvenuti hai visto quante cose bene hanno portato sono carolina sì ma io solo ce l'hanno i miei e voi il pisellino l'avete don pino sì ci posso presentare mio nonno avvocato che piacere io volevo ringraziare perché il suo contributo ci è stato veramente essenziale è stato un piacere piuttosto e complimenti per il vostro lavoro il merito è tutto dei giovani come sua nipote che sono veramente impegnati a fondo giovanna buongiorno perché non porti giovanna a giocare giù con d'arte bambini il ragno la mosca il ragno la prende peccato ciao 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 Sara smettila per favore Sara ciao Ciao, a domenica! Avete visto chi è stato? Don Pino, l'abbiamo trovato a terra. Ma anche i pneumatici vanno squarciati. Allora, vai, ci tiriamo lì su.